Signore e signori, Rodolfo De Montis! Ciao ragazzi, benvenuti a tutti quanti in una nuova diretta e in una nuova epoca di Drumstart. Assolutamente nuova. In una nuova epoca di Drumstart e ho l'onore di avere qui questa sera un mio amico, in verità di infanzia. Infanzia proprio... Quando eravamo bambini... Ma forse anche nella pancia, perché abitavamo vicinissimi. E' vero, abitavamo nella stessa zona, nella stessa via, eccetera, eccetera. Direttamente dall'ultimo dei tuoi lavori, l'orchestra di Sanremo, Tommaso Sanzonetti. Adesso dovevo mettere il bottone con gli applausi, capito? Maglietta! Maglietta! Divisa d'ordinanza! Non si entra qui senza la maglietta d'ordinanza. Vi presento Drum e Stronzi, siamo un nuovo duo. Grande zio, me la fai prendere a bene, me la fai prendere a bene. Se me la fai prendere troppo a bene. Intanto, scusami, complimenti, c'è un posto stupendo. Hai visto che casino di fili qua? Cioè, qui c'è un sacco di feeling qua. No, veramente stai accitato benissimo, complimenti. Anche perché poi si percepisce, quando uno vede un video tuo, si percepisce che c'è tanto lavoro dietro, tanto materiale, tanto... Però poi quando vai dentro, sei fisicamente qui, la tana del lupo, dici, cazzo sto lupo figo. Quindi ragazzi, venite a trovare Rodolfo, iscrivetevi alla scuola di Rodolfo, seguite il canale di Rodolfo, fate tutto. E soprattutto, la famiglia si allarga. Perché adesso io... Cioè, lui la prima cosa che mi ha detto... Cioè, aspetti un altro bambino? No, 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 te. Come potete vedere, la prima cosa che ha fatto Tommaso, appena è entrato, mi ha detto, senti, ma io ora è la maglietta dei drumstronzi. Perché lui ha capito subito qual è il clima, diciamo. Assolutamente. Io lo trovo veramente... Che poi la cosa più bella, noi veniamo dal conservatorio. Esattamente, che è accademia, che è... Che è tutt'altro. Devo dire che, appunto, vivere poi per dieci anni, là dentro, da una cosa all'altra, dieci anni, io ho fatto, tu hai fatto molto meno, hai fatto sei anni. Io... Allora, io sono entrato nel 2005 e sono uscito nel 2011, quindi sì, sei anni. Sei anni, sei anni, sei anni. Insomma, quello... Beh, però, perché c'era la storia del vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, tutto quel casino, insomma. Sì, io purtroppo ho avuto un po' di problemi e vabbè, comunque, poi se mai ne parliamo. Però per dire che l'accademia del conservatorio, tutto rigido, eccetera, eccetera, poi in realtà esci fuori e se non te la fai prendere a bene... Te la devi prendere a bene, ma... Cioè, sei rovinato. Sei rovinato per sempre. Quindi, no, bisogna... Cioè, tu c'hai proprio lo spirito giusto, io ho detto io voglio... Cioè, voglio la maglietta. La maglietta d'ordinanza, ok? Questa è la maglietta, se no non si può fare niente. Assolutamente. Tu pensa che organizziamo le feste della scuola, i concerti della scuola, eccetera, in vari locali? Io scrivo la scuola per far parte di queste feste. E se non vieni con quella, non suoni, non te fanno entrare. Io addirittura a volte... Cioè, presente la Locanda Blues che conosciamo benissimo? Io dico, ragazzi, se non c'hai una maglietta di istruzzi mi fai entrare. Che figa. No, è bellissimo. È proprio bello. Io, innanzitutto, grazie per essere qua, perché io avevo questo... Come sai, molte persone sono sempre interessate a sapere da dove viene un musicista, ok? Cioè, come ha fatto ad arrivare a fare un certo tipo di percorso e quindi ad arrivare... A me mi chiedono tutti quanti, per esempio, nonostante io abbia lavorato un botto nel sinfonico, nel lirico, ok? Però, ovviamente, negli ultimi due anni, per esempio, sono stato in tour Coppatti Pravo e, ovviamente, tanta gente mi dice, ma anche di quelle persone che mi conoscevano prima di Drumstart mi chiedono come hai fatto ad andare in tour e quindi racconti un po' la tua storia, quindi il percorso, quali erano le esigenze artistiche, eccetera, eccetera. E ho sempre pensato di voler raccontare insieme a te, perché io comunque, anche se non abbiamo lavorato insieme in questi anni, però, in verità, siamo cresciuti insieme, si può dire, anche musicalmente, ovviamente, perché i percorsi sono stati diversi, perché tu, in verità, eri partito dalla batteria e poi sei atterrato in conservatorio, no? Esattamente. Io ho fatto l'inverso tuo, praticamente. E invece il... è bravo! Io invece ho fatto il... e quindi era bello l'idea di raccontare insieme a te quali sono... Io, infatti, ho scritto viaggio dalle percussioni sinfoniche alla batteria. Perché? Perché, in verità, noi, in qualche modo, abbiamo... ci siamo incrociati... come il film, quello lì, Lo strano caso di Benjamin Button. Ah, sì, sì, sì. Che c'era la ragazza che, ovviamente, nasce piccola, lui, invece, nasce vecchio e si incontrano a metà strada... Pazzesco, quel film. Praticamente è una cosa simile, nel senso che tu... Mi ricordo che tu hai sempre suonato la batteria, sei andato in America, hai studiato al Collective, eccetera, eccetera, e poi... Appena tornato in Italia... Hai deciso di fare il conservatorio. Intanto ti devo dire una cosa riguardo a quello che hai detto, che è molto importante... ed è curioso, e bisogna essere curiosi e cercare di andarsi a... insomma, a vedere un po' le biografie, non perché noi dobbiamo... non perché dobbiamo scrivere una biografia, assolutamente, ma sapere... Io dico biografia nel senso di quello che è successo prima, è importante perché... ma non perché uno deve fare la stessa cosa, perché le cose che succedono negli anni sono frutto di tante cose... Incastri, coincidenze, conoscenze diversi... Ma anche il nostro incontro, il nostro rincontro, è stato frutto di un rapporto di anni, per esempio, che io avevo con Serena Marotti... Come no, come no, Marotti... Marotti, sì, sì, Marotti, Marotti... Io ho cominciato a suonare la batteria e lei mi ha detto, insomma, vai a Palacoro... Insomma, tante cose, quindi non è che se tu fai la stessa mio percorso, non dico che arrivi come sono io adesso... Cioè, è importante perché si prendono degli spunti... Esattamente... Ed è una cosa molto importante, per esempio, leggere o andarsi a vedere film o comunque qualcosa che riguarda la storia di un musicista, di un batterista, di una band... Esattamente... O anche semplicemente di un artista in generale... E non solo della vita, correggimi se sbaglio, non solo di quello che fa musicalmente, ma di quello che è la sua vita anche privata... Anzi, esatto, che è molto più interessante... Che è molto più interessante... Infatti, con Marco, noi facciamo questa rubrica, storie di batteristi... Io l'ho seguita tutta, sto aspettando le altre puntate... Non le abbiamo fatte per un motivo che io volevo fare sta puntata con te e anche storie di batteristi si farà così, in diretta... Ah, ecco, giusto... La facciamo in diretta, quindi con la gente che ci chiede cose, eccetera... Poi, ragazzi, leggeremo i commenti tra un po', eh... Ah, adesso io intervisto Tommaso e poi scrivete le domande... E poi l'ho visto te. Bellissima idea, bellissima idea... E quindi dicevo, il trascorso era interessante... Allora, io parto con una domanda, ok? È una cosa alla quale io rispondo spesso a lezione ai ragazzi, che mi chiedono... Eh, ma tu hai fatto il conservatorio, ma è... Dimmi... Allora, posto che è una vita che suoni... Però, cosa tu prendi e che nel tuo lavoro trovi molto, molto, molto comodo e utile e che hai però imparato nell'ambito moderno, perché comunque tu anche le percussioni classiche le stai utilizzando, da quello che mi hai detto, moltissimo, in situazioni live moderne, televisione, eccetera, eccetera... Quindi, quali sono le cose che tu hai imparato e che veramente per te sono state un game changer, però applicate al mondo del classico, se così possiamo dire, che però quasi tutti i giorni utilizzi nel mondo moderno, eccetera, eccetera... Quindi mi stai chiedendo quello che io ho imparato nel conservatorio, quindi non fuori... Non fuori da... Ah, in conservatorio e nelle esperienze, tra virgolette, chiamiamole così, classiche, e che però utilizzi nel moderno, ok? Perché ti faccio questa domanda? Perché io, tempo fa, ho fatto un video dove dicevo, sconsigliavo, tra virgolette, alle persone che volessero imparare solo ed esclusivamente la batteria, il conservatorio, inteso come un percorso classico. Perché io dico sempre, se hai molto tempo, se sei giovane e non hai già 25-30 anni e vuoi imparare e hai tempo, quindi allora la preparazione, una visione di insieme della musica sicuramente ti dà di più, cioè hai anche più... Cioè hai una mole di bagaglio culturale che ti sostiene, anche nel lavoro pop, ok? Sicuramente. Però se devi un po' stringere i tempi, potrebbe non essere la strada migliore. Allora, però, molte persone hanno frainteso questa cosa. Allora, io dico anche... Guardate che io, però, non è che dico di non farlo. Io l'ho fatto il conservatorio e per me è stato utilissimo. Quindi vi do la testimonianza di questa cosa con un'altra persona esperta che lavora tantissimo in questo ambito, eccetera, per farvi vedere che in verità anche quel percorso, soprattutto per i più giovani, perché ci sono molti ragazzi che guardano questi video, drum start, che sono giovani, vogliono imparare, vogliono capire, partono da zero. Quindi, tutto quello che tu hai... Diciamo, le cose delle quali tu costantemente utilizzi, fai tesoro, eccetera, eccetera. Allora, intanto ti premetto che io ho fatto un po' come dici tu, cioè, nel senso, ho cominciato tardissimo il conservatorio e paradossalmente molti me l'avevano sconsigliato. Certo, sì, sì, esattamente. Perché è un percorso lungo, perché è un percorso difficile, che io ho cominciato a 22 anni, che a 22 anni di solito nel conservatorio si diplomano. Si diplomano. Bello che è già diplomato da tempo. I violinisti, per esempio, in conservatorio a 17 anni sono diplomati, sono vecchi, sono anziani, a 17 anni, sì, violinisti soprattutto. E quindi, quello che io... Allora, io, per dirti, la mia formazione è stata la batteria, diciamo, anche quella abbastanza tardi, perché io l'ho conosciuta, l'ho cominciata a suonare a seconda media, quindi quanti anni si hanno? 12-13 anni. 12-13 anni, sì. 12-13 anni. Prima strimpellavo un po' il pianoforte, la chitarra, ma niente di che, non sapevo manco leggere bene la musica. E poi ho cominciato la batteria e mi sono subito appassionato, ho subito capito che quello era il mio strumento, avendone passati un paio, insomma, il pianoforte, la chitarra. E quindi ho detto, ok, questo è uno strumento che fa per me. E ho fatto qualche anno, un paio d'anni da solo, a casa, mettevo le musiche, mettevo le basi, no, le basi no, perché non c'erano. Le basi non c'erano, c'era tanto sta cosa delle basi, sì. Suonavo sopra le cassettine, cioè io mi registravo la radio, io stavo sempre con la radio accesa e ogni volta che c'era un brano che mi piaceva, correvo a spingere rec. E quindi molte basi, per esempio, molte canzoni le suonavo tipo due o tre secondi dopo all'inizio perché non ero riuscito a mettere il tempo rec. Quindi ho imparato moltissimo sui dischi, ma proprio, io mi ricordo ancora il primo, Streets of Philadelphia, di Ghost Twisting, che è il primo brano che capì che c'era qualcosa di strano sull'urlante. Ok. E c'era quel sedicesimo, no? Cazzo, ma questo groove è fichissimo. Allora, mi sono messo tipo due giorni, mi ricordo quanto, a cercare di capire meccanicamente come era qualcosa. E non puoi capire la gioia di quando, ok, sì, sono riuscito a farlo. Quindi, insomma, è sempre stato per me fonte di entusiasmo la musica. E io dico che se non è fonte di entusiasmo la musica la lasciate perdere. Questa è un grande, guarda, stai dicendo una grande cosa, quindi faccio pausa, faccio il fermo immagine. Fermo, fermo. Sentite che dice il maestro, se lo fai senza entusiasmo, e per entusiasmo si intende anche il cazzeggio, cioè il divertimento totale. Leggerezza, leggerezza, che è la cosa più importante che ci possa essere, che traspare là dietro. Perché quando sei, io me l'accorgo, perché quando sono molto teso, a parte che, per esempio, stamattina ho registrato una colonna sonora, mi facevano male le mani, non ho teso, e non suonava proprio la pelle, le congas, non suonavano. Mi sono lasciato andare un pochino anche il fonico, mi ha detto, senti, rifacciamo dopo, tra dieci minuti. Quindi, se non ti lasci andare, non suona lo strumento. Non suona, sì, sì, la tensione la scarichi tutta, male, e lo strumento, io lo dico sempre, qui facciamo lezione, per esempio, con tutti i strumenti, l'hai visti, tutti professionalissimi, eppure suonano male, se non sei rilassato, no? Quindi la leggerezza, questa cosa qui, molte persone, per esempio, dicono, ma il conservatorio, la musica classica, in verità la devi vivere come un gioco, anche quella, secondo me. Sai cos'è che io ho notato? Che bisogna essere, passami il termine, intelligenti, ma non perché uno lo è meno degli altri, ma intelligenti è cercare di capire cosa prendere, perché non puoi prendere tutto, e non puoi neanche avere, diciamo, come dire, l'idea di imparare tutto soltanto lì dentro. Certo. E, come dire, altro tipo di musica. Perché ti faccio questo esempio? Perché io, quando discorso della mia formazione, ho passato diversi anni come, soltanto come musicista, come batterista. Poi ho sentito, dopo l'esperienza di New York, che è stata il top, cioè l'esperienza top didattica mia, solo tre mesi ho fatto, però ho fatto, cioè, avevo tipo 6, 7, 8 ore al giorno di lezioni, quindi puoi immaginare quanti informazioni ho avuto. Tutte insieme, sì, sì. Però, sai cos'è? Che ho atterrato a Roma, a parte che volevo subito tornare lì, però mi sono fermato, ho fatto cazzo, ok, aspetta un attimo, si può studiare, lo lascio? Sì, puoi dire tutto. È vietato ai minori questo posto. Ho pensato, ok, figo, bello, bello, però la musica tosta, aiuto. Cioè, io ho bisogno di sapere che succede, cioè non voglio essere quello che durante le prove sente gli altri che parlano. Ti spiego? Cioè, io voglio interagire attivamente con la band e proporre qualcosa. Infatti, ogni volta che, per esempio, a me piace moltissimo fare i cori, quindi partecipare anche attivamente dal punto di vista armonico, se così si può dire, con i cori, no? E quindi, molto spesso mi capita che mi piace, insomma, propormi e spesso vedo le facce dei miei amici musicisti che non si aspettano che il batterista conosce l'armonia. Certo. Ed è una cosa figa. Dice, io qui faccio la terza, faccio la quinta, metto la quarta, facciamo una cadenza plagale, una cosa, quindi ti guardano e dicono, ma che cazzo? Bravissimo. Esatto. Questa è una cosa che, comunque sia, dal punto di vista lavorativo, contraddistingue una persona. Una persona, sì, sì. Quindi, magari lui è più bravo di me, però magari, che ne so, io sono un pochino più addentro nella musica, posso dare un contributo maggiore. Un contributo maggiore, sì, sì. Allora, magari chiamano me, che sono magari meno veloce, meno tecnico, però, capito? C'hai una visione. Esatto. Si, sì, musicale. E questa è una cosa importantissima. Non voglio perdere il filo, però, tornando al discorso del conservatorio, io sono arrivato alla prima lezione del conservatorio, che avevo già fatto tanta musica, tantissimi concerti. Quindi, è come per dire, quando venti in orchestra, no? Che spesso si entra al quinto, dopo il quinto anno, no? Sì, al quinto anno, sì. A me è capitato da subito, anche dal primo anno di andare. Ti rendi conto subito che hai quella facilità nel seguire l'orchestra, perché comunque hai suonato tantissimi anni con la band, con altre cose, quindi... L'orecchio è allenato, già, sì. Se da un punto di vista musicale, io non avevo, prima di 22 anni, non avevo mai fatto nulla, armonia, solfeggio. Io mi sono trovato malissimo nei primi anni, perché a 22 anni, in classe ragazze di 15, 16, che andavano delle spade, io... Sì, è vero, è un disastro. Idem con patate. Però quando andavo in orchestra, avevo quell'attitudine giusta che quelli che, prima di me, insomma, solfeggiavano da paura, non avevano. Quindi bisogna sempre capire tu da dove parti. Certo. Nessuno ti può dire, ok, quanti anni hai? 13. Conservatori. Ups. 13 conservatori. No, cioè, vivi anche quello che ti senti, anche quello che la città ti dà. Certo. Perché, per esempio, io avevo otto gruppi, una marea di cose, quindi ero, appunto, dedicavo magari un po' meno allo studio. Infatti io non sono tecnicissimo, non mi piace neanche essere tanto tecnico. Mi piace molto, invece, essere al servizio della musica. E questa cosa, io quando studiavo, mi tenevo sempre molto spazio per i gruppi. Non a caso, appunto, all'apice avevo otto gruppi, quindi uno al giorno. Facevo una prova al giorno quando stavo... Quello è un allenamento pazzesco. Quello mi ha dato tantissimo. Sì, sì, sì. Quindi, quello che io ho fatto è arrivare nel conservatorio e cominciare a conoscere la teoria della musica con già avuto un po' di pratica alle spalle. Sì, 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 sì. Che mi è servito moltissimo nel lavoro, per esempio, di Sanremo o per esempio di televisione in generale, che io sono sei anni che lavoro, per esempio, con il maestro De Amicis. Abbiamo fatto tantissime trasmissioni, anche la prima cosa che abbiamo fatto è stato Gianni Morandi all'Arena di Verona, insomma, uno spettacolo pazzesco. E quell'episodio lì, tra l'altro, fa ridere come sono entrato, perché Gianni Morandi stava suonando con la sua band e con l'orchestra dei conservatori. Per entrare nell'orchestra dei conservatori ci vuole, cioè bisogna fare un concorso, un'audizione e tutto. Io sono entrato dalla finestra, se si può dire, perché mancava un percussionista. Le prove erano a Roma. Il maestro De Amici si è chiamato il mio maestro, che ha fatto il mio nome. Io sono subito andato, quindi mi sono trovato nell'orchestra dei conservatori, che tipo così, dalla finestra sono andato. Però è piaciuto molto l'approccio e quello che ti dico, appunto, non bisogna pensare soltanto all'accademia, ma pensate pure anche alla musica, ai locali. Andate a sentire la musica, andate a sentire i vostri colleghi o persone che non conoscete, andate nei locali a suonare gym session, a sentire gruppi sconosciuti, qualunque cosa. Io mi ricordo che quegli anni lì li ho passati tantissimo le sere, proprio nei locali di San Lorenzo, o quello che è, Locanda Blues. Come no? Ed è stato molto formativo per me, perché io ho imparato, ascoltando e guardando quelli che si muovevano sul palco bene, ho fatto mio i movimenti che facevo, anche le interazioni che avevano tra di loro, che poi io, a mia volta, ho proposto nei miei gruppi. E questo mi è servito moltissimo, quindi non per forza studiare i suoi libri, ma anche tanta musica dal vivo. Quindi, e qua mi allaccio al discorso delle masterclass, andate a vedere le masterclass dal vivo. È vero, è vero, è vero. Perché quello che sentirete, noi adesso siamo su YouTube, ma sentire una persona che parla dal vivo, o uno strumento che suona dal vivo, ti mette delle vibrazioni che ti lasciano... Io mi ricordo che dei concerti che vedevo alla Palma, ti ricordi la Palma, con il bellissimo locale che c'era qui a Roma, mi portava avanti per giorni, per giorni, per giorni, la sensazione della cassa di Steve Smith, di Dennis Chambers, che abbiamo visto lì. Insomma, cosa che purtroppo, volendo... su YouTube non è possibile. No, non è la stessa cosa. O comunque molto spesso ti accorgi di, magari, persone su YouTube che suonano da paura, magari super editati, super... capito? Quindi, andate a vedere la verità. La verità, la verità. Dal vivo, dal vivo. Non è che non fa parte della formazione. No, devo stare a casa perché devo studiare. No, esci perché devi studiare. Io, infatti, dico sempre questo. Quando molte persone... adesso dico un paio di cose, perché le persone che mi conoscono sanno che quando io intervisto qualcuno, mi è capitato, ho intervistato Enzo Ugello, insomma, così... Adesso faremo... Grande Enzo, che salutiamo. Che salutiamo e poi abbiamo detto che faremo una... Bellissima quella diretta. Faremo un'altra cosa insieme, però suonata stavolta, però dobbiamo capire un attimo tecnicamente, perché dobbiamo collegarci. È un casino, ora vediamo, però faremo delle cose insieme. Molte persone, quando tu dici a una persona quanto studi, ma sette, otto, dieci ore al giorno, le persone pensano, perché ovviamente è difficile da spiegare, che tu stai dieci ore a fare i rulli a due, ok? Beh, non è que... Io, per esempio, dico a tutti quanti, guardate che quando tu stai fermo così in mezzo alla strada e ti viene l'idea di una melodia, ok? E che magari stai aspettando l'autobus, però in testa già te la sei scritta. in verità quello è un quarto d'ora che hai studiato, oppure vai a vedere un concerto, una clinic, tu, è vero che non stai facendo l'esercizio, ma tu stai studiando, ok? Quindi, in verità, quando dico alle persone, se vuoi fare il musicista, soprattutto oggi come oggi, devi dedicare tutto te stesso, non puoi troppo suddividerti per fare quello, quello e quell'altro, è perché tu mentalmente devi avere il cento per cento di immersione nella musica, anche se poi, magari, oggettivamente stai due, tre ore al giorno sulla tecnica dello strumento, diciamo così. E l'altra cosa importante è che, secondo me, forse, perché appunto noi siamo cresciuti in un modo, perché abbiamo avuto la fortuna evidentemente di avere anche degli insegnanti che ti facessero suonare tanto, ok? Quello poi entra... Quello, perché quello è importante, io adesso, noi non stavamo nella stessa classe in conservatorio, poi tu hai cambiato conservatorio, quando io ho finito tu hai cambiato? Sì, nel 2012. Ah, nel 2012 tu da Perugia sei venuto a Roma, quindi, in verità... Tante esigenze personali, lavorative, e tra l'altro, col senso di voi, meno male che l'ho fatto, perché il mio maestro dell'epoca, il mio maestro, sì, insomma, il maestro Ruggeri, è stato lui a fare il mio nome con De Amicis. Ah, certo. Se io fossi rimasto a Perugia... A Perugia non sarebbe successo, magari sarebbe successa un'altra cosa. Sì, però fa ridere come la vita, poi ti dà delle conferme. Quella cosa mi ha detto, ok, hai fatto come... Ok, il prezzo è giusto, ok, quella cosa... Hai fatto bene a muovere, sì, sì. Sì, appunto, io ho avuto la fortuna, appunto, di avere un insegnante che mi ha fatto suonare un botto. Non ricordo, faceva un sacco di concerti, ma in tutta Italia, ovunque, a tutte le ore, suonando tutti gli strumenti a percussione, nell'etico, nel sinfonico. Quindi, effettivamente, comunque tu puoi studiare tutta la tecnica che vuoi, tutti gli esercizi che vuoi, ma in verità, quando sali sul palco è diverso. Cioè, quando sali sul palco la realtà è diversa. Io, quello che dici te, per esempio, tu l'hai detto, però adesso io metto l'accento. Posso mettere l'accento? Vai. Metto un accento. Che cosa ha detto Tommaso? Ha detto, io ero molto interessato, non allo strumento e basta, ma ero, io ho registrato quello che ha detto, ma ero interessatissimo a dare un contributo alla musica. Esatto. Ha parlato di musica. Infatti, quello che dico sempre è, devi cercare di fare il musicista, non il batterista. Perché se fai il batterista, devi stare da solo in una stanza a fare il batterista. Cioè, metti la telecamera e fai il batterista. Quando invece ti chiama un artista e dice, guarda, qui io voglio che tu rallenti. E dici, ma come io ho studiato tutta la vita a click? Eh, devi rallentare. E non lo sai fare. E non lo sai fare. Però sul click sei una macina, no? Sì, sì, sì. Quelle sono quelle cose che ti spiazzano e che però ti fanno crescere. Dalle quali, se ti rialzi in quel momento e riesci a... In verità ti sei aperto un portone enorme, no? E non solo bisogna anche essere abituati ad ascoltare i consigli. I consigli. Dei non batteristi. Perché è facile, no? Quando stiamo insieme in una stanza, magari non mi viene un passaggio, tu mi dici, prova a fare il paradiddle. Metti il doppio colpo lì. Esatto. Oppure fai, invece del drag, fai il flam. Non troverai mai nel lavoro uno che ti dice una cosa. Questa cosa, sì, sì. Ma magari ti dice, no, 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 così, devi fare così. Oppure, puto-pum. Queste cose non matopeiche. È sempre così. Nessuno ti dirà, no, qua devi metterlo a sette. Poi, no, nove. No, forse è meglio, capito? No, parti di sinistra. Esatto. Quindi uno, intanto devi accettare i consigli. Quindi un musicista importante, un musicista che comunque accetta i consigli, cresce. Non è vero che, oh, questo mi ha detto una cosa del genere. Io sono bravissimo, a casa mi veniva. A casa mi veniva. Come i comandamenti che sono scritti lì. Quindi essere aperti a ascoltare, aprire le orecchie, vuol dire anche ascoltare quello che ti dice la persona davanti. Esattamente. Ed è una cosa che forma la persona, forma il musicista. Quindi state attenti alle cose che vi dicono gli altri. E non andate in puzza se magari qualcuno ti dice stai rallentando, stai accelerando. Rallentando, è certo. E non te la prendere a male. Anche perché quando suoni, molto spesso, la percezione di quello che tu stai suonando ce l'hanno gli altri. Ce l'hanno gli altri, sì, sì. E quindi abituarsi a fidarsi degli altri. Questa è una cosa che io ho imparato moltissimo. In orchestra poi è una cosa che sei costretto a fare. Ah beh, c'è il maestro. C'è il maestro. Anche perché se no te caccia. E ci sta la sezione degli ottoni, che so dei rompipalle di solito. Che stanno sempre all'unisono con noi. Che stanno sempre all'unisono con i timpani soprattutto. E che di solito se tu sbagli mezza cosa, diciamo, o il primo corno o la prima tromba te guardano brutto. Non so se... Non so se dico bene. È successo un sacco di volte. Però vedete, questa è una delle cose interessanti. Io a volte rimarco alcuni concetti. Cioè, in musica classica, in musica classica, sei costretto, sei costretto proprio dalla forma, proprio del suonare in orchestra, di stare in sezione, eccetera, a dover ascoltare quello che succede. Ecco, per esempio, dicevamo, le trombe stanno sempre insieme ai timpani. Se parliamo del periodo Bach, Mozart, eccetera. Quindi, se tu ti abitui a fare il caso che ti sei perso sul pentagramma e non sai dove stai, ma quando vedi che la tromba imbraccia, in verità è probabile che tu devi entrare con i timpani, perché magari ti sei perso in mezzo a quella cosa. In verità, l'attenzione agli altri è una cosa che poi, quando suoni pop, quando senti il cantante che magari interpreta in un certo modo e vuole il groove fatto in un certo modo, eccetera, tu hai tutto un allenamento basato sull'ascolto, sul cercare di creare i giusti ritardi, perché quando suoni i timpani tu arrivi sempre in ritardo e devi anticipare il gesto del maestro per stare a tempo. Quindi quella cosa lì anche con i cantanti succede, in verità, pure quando suoni la batteria con le sequenze, eppure c'è questa specie di flem, tra virgolette, tra la voce, quello che senti come interpreta, eccetera, e quella roba lì viene dalla musica classica. Mi fai sorridere, rido non perché c'è qualcosa in faccia, ma perché stai dicendo tutte cose vere che sono successe. Che succedono, sì, sì. Allora, io il primo giorno d'orchestra mi misi a timpani, io adesso sono timpanista. Ho capito tutto, mi sono letto tutto, il Goldenberg, allora faccio il timpanista. Allora a quel punto metto là, comincio a suonare, e il maestro, che era una donna, meravigliosa, perché lei mi ha veramente... Ho fatto un percorso con lei di un anno, il maestro Massarelli, che saluto. Ho fatto con lei un percorso di un anno, perché poi è andata via, però quell'anno è stato bellissimo, perché la prima volta, la prima prova, noi facevamo subito una prova per un concerto, io andai a fare, a suonare timpani. Lei mi disse, ma timpanista, ma ci sarai tu al concerto? Ecco, è già questa cosa. Già ti mette il male. Oddio, perché che ho fatto? Perché non ne ha pesa una. Ah, veramente? Sì, sei sempre in anticipo. Ah, lo vedi il gesto? Eh sì, devi andare un pochino dopo. Ah, non lo sapevo. Capito? Cioè, tu mi hai chiesto cosa mi ha dato la musica classica. Sì, sì, questo. Io avevo già... Oh, 2012 ero grande. 2012, quanti anni ci avevamo noi? Beh, 27. Ecco, 27. Cioè, comincia a essere grandicello. Tu sei 80? Io so, ottobre 80 qua, siamo coetanei. Coetanei. Quindi, insomma, a 27 anni, sentirsi dire una cosa del genere, dopo che l'avevo fatto, io ho studiato in America, ho suonato un sacco in giro, con un sacco di gente, mi dice una cosa del genere, ma va... E invece no. Sì, sì. Mi sai cosa ho fatto? E lì entra in gioco pure, per esempio, mia moglie Giada, che è stata così meravigliosa che si è venduta il suo pianoforte e ci siamo comprati timpani. Ah, sì? Sì. Perché all'epoca... Io tornei a casa distrutto da questa... Certo, ti ammazza una cosa del genere. E lei è stata così meravigliosa. Infatti, ecco, sceglietevi bene le persone con cui stare accanto, perché vi possono aiutare moltissimo. Lei mi ha visto così e siamo andati subito a comprare timpani. Io, dopo una settimana, l'avevo già a studio, ho cominciato a studiare, e quindi è bella questa storia, perché questo episodio della maestra che mi ha detto ci sarai tu al concerto era febbraio. Abbiamo comprati timpani. Io a luglio feci sempre con l'orchestra del conservatore un concerto molto importante al Festival dei Due Mondi di Spoleto in cui la maestra venne e mi diede la mano. Quindi, c'è ancora c'è i brividi. Perché io ho capito il concetto, ho capito quello che voleva dirmi la maestra. Mi sono messo a studiare come un matto e da quel momento, tra l'altro, i timpani sono diventati il mio strumento preferito. Perché ho scoperto come funzionavano. E sono meravigliosi i timpani. Quindi, l'incontro di persone giuste vi può cambiare tutto. Ma anche come reagite ai problemi. Io potevo deprimermi, potevo lasciare tutto. Lasciare, sì, sì. Ma che cazzo io sono un grande, io ho fatto questo, quest'altro. Invece no, ci vuole cazzimma, ci vuole umiltà e andare a casa a studiare. Questa è la cosa importante. Suonare con i suoi dischi. Comunque, mettersi in gioco. E questa cosa a me è servita moltissimo e io da quel momento ho preso proprio il via con questi strumenti, con i timpani. Quindi, ecco, e sono arrivato a Sanremo a fare i timpani per Sanremo. Quindi, che non vuol dire niente. Comunque, è in diretta, ti guardano milioni di persone. Ed è un casino che ti fa centinaia di canzoni. Però, per dirti che reagire bene alle delusioni, alle frustrazioni, è la cosa più bella. Cioè, non ricevere delusioni, non ricevere frustrazioni, è la cosa peggiore che vi possa capitare nella vita. Sì, sì, sì. Perché rimarrete sempre così. Perché invece la vita è così e deve essere stagliata. Perché sennò non si va avanti. Assolutamente. Quindi, inciso, metto un altro accento. Se queste cose, queste cose non ti possono capitare se stai sempre chiuso dentro la camera a fare i paradiddle. Sì. Quindi, questo non voglio dire che i paradiddle non siano importanti, però queste cose, diciamo, queste cose servono. Perché io, per esempio, ho fatto tanta orchestra, ma io ho capito che il battere dell'uno è one, qua, perché boom! Quando il direttore fa boom! Scusi, che cazzo! In verità a me mi cacciarono proprio. Cioè, diciamo che tu sei stato fortunato perché hai trovato magari una donna, le donne in qualche modo. Io invece trovai come direttore nella mia prima esperienza in orchestra, uno che il giorno prima evidentemente dava accettate e tirava giù gli alberi in Scandinavia, ok? Probabile, sì. Questo qui, ma urlando, insultandomi, dicendomi parolacce, roba, mi ha cacciato. Fantastico. Quindi io non... Eppure, non era così drammatica la cosa. Ci sono anche persone particolari. però devi resistere, ok? Devi resistere, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente questa cosa, se io fossi rimasto a casa e non mi fossi buttato, come tu dici, io mi sono buttato, perché a certe volte devi buttare. Allora, il consiglio che do anche a chi lo fa amatorialmente, che segue questo canale e che suona e vuole avere informazioni. Ragazzi, comunque, la cosa migliore è trovate amici, colleghi, parenti, fate il gruppo, fate le prove per suonare insieme, ma poi trovate il modo di andare nei club, nelle cose, a suonare dal vivo, perché capite delle cose che per quanti esercizi potete fare e qui la musica classica in verità viene in aiuto, perché la musica classica a un certo punto tu poi non puoi, non è che registri, tu pigli e fai l'esecuzione. quindi lì sei abituato a fare alla fine one shot perché poi quando diventi un po' più esperto io ancora non ricordo un'opera con più di una prova. Bravo. Un'opera. Io ho fatto, che ne so, da Verdi, un'opera che mi è rimasta nel cuore è Gianni Schicchi, bellissima, e l'ho fatta tantissime, l'ho suonata anche in America, abbiamo fatto dei tour, ma io non mi ricordo mai di aver fatto più di una prova. Cioè lì devi arrivare e suonare. Se non sei abituato a fare quello che dici te, tu hai sempre uno stato d'animo compromesso, cioè non stai, non sei mai sereno, però sai come gestire quella non serenità, ok? Diciamo tecnica. Questa cosa è importantissima e io mi piacerebbe insomma raccontarti un altro aneddoto che mi è successo, ma perché fa ridere anche questo e ti fa capire come se non mi fossi buttato non avrei fatto tantissime altre cose. Esattamente. Mi ha chiamato un mio amico, a un certo punto lui stava in vacanza, doveva suonare la traviata, insomma vabbè il timpanista che lui aveva trovato non andò, quindi la prima parte dell'opera è stata fatta senza timpani. Questo mi ha chiamato, io stavo mangiando a casa, erano le nove di sera, nove e mezza, mi disse ti prego vai vai vai, io ho detto l'hai suonata mai la traviata? ho fatto no, vabbè vai 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 vai, io sono andato così, col motorino, mi sono messo smogging, andato al salone Margherita a fare la traviata dal secondo atto in poi. Bellissimo. A prima vista, poi tra l'altro senza luce, è un casino, ed è successo una cosa stupenda, che io, cioè là come il fisico risponde, felicità, l'ho stato puro, anche se non ho peso una, però il maestro era contento perché c'era una persona sul timpano, innanzitutto, qualcosa ho preso, quindi, e da quel giorno, il maestro mi ha comunque sempre preso in considerazione come altro timpanista, quindi buttarsi, 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 più, soprattutto, chi di voi lo vuole fare poi di mestiere, cioè, questo è un consiglio che vale per, diciamo, le persone che lo fanno amatorialmente, se lo volete fare di mestiere, il vostro principale lavoro dalla mattina alla sera non deve essere studiare la tecnica, ma deve essere cercare di andare a suonare live, anche senza prove, perché dovete sviluppare un atteggiamento che poi sarà l'atteggiamento che dovete utilizzare, credo, perché è quello che tutti i giorni ci capita, quando ti capita il lavoro. L'altro giorno mi hanno chiamato per registrare, per esempio, un disco di un artista grosso, insomma, che, cioè, non è che, cioè, io sono entrato, non c'era manco il tempo di accordare la batteria. Capita, sì. Come va? Bene, bene, allora, sta a posto, guarda, tempi frenetici, ti sei messo, senti, mi puoi alzare, partita la sequenza, così, cioè, quindi, quella cosa la puoi fare solo, la puoi fare solo, se ti butti. Devo dire la verità, ringrazio io, i nostri insegnanti di concerto, che ci hanno fatto suonare tanto, perché, sapevo, essendo dei musicisti che praticano sul campo e che non fanno le cose in teoria, sanno perfettamente che è meglio essere un po' sporchi, ma avere la violenza giusta di buttarsi nella situazione per sopravvivere fondamentalmente, perché poi, è ovvio che, come dicevamo, tante cose si imparano solo per strada, ok? Cioè, per strada, proprio quando uno ti dice, ma io sono cresciuto per strada, se vede, perché, perché certe cose, quantomeno sei abituato a tendere a risolverle. Tra l'altro, un'altra cosa importante che hai detto, i buoni insegnanti sono quelli che non ti insegnano soltanto la musica, quello che è, ma anche come ci si comporta sul banco. Sì, 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 sì. E io, per esempio, devo raccontare, il mio storico maestro di batteria, Salvatore Scorrano, che saluto, lui mi portava a fare soundcheck con lui, io avevo 17 anni, e mi faceva fare a me il soundcheck, lui si metteva in sala a ascoltare, e io solo dopo tanti anni ho capito perché lo faceva. Lui mi lasciava da solo con gli altri musicisti a fare il soundcheck pischellissimo, e io ho imparato un sacco di cose. E certo. Quindi l'insegnante che ti porta in giro è importantissimo. Sì, 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 sì. Scegli un insegnante, sono due. O lo scegli bene perché tu ti sei accorto che quella persona, oppure ci vuole culo, in conservatorio pure, per esempio, a meno che quello di strumento te lo puoi scegliere, no? Beh, sì, io... Abbastanza. Comunque tu vai lì... Però se tu scegli solo il conservatorio, ti può dire culo o ti può dire male. Se invece scegli quel conservatorio perché cerchi quell'insegnante, è un altro discorso. Quindi devi essere fortunato a magari trovare un buon... E a sapere chi è uno bravo. Esatto. A saperlo. L'importanza di un maestro. E qui un'altra cosa. Tutte le... Essere autodidatti è buono, è importante, però cercate sempre di avere un rapporto con una persona viva, vera. e ci sono molti corsi online che per carità sono meravigliosi, però occhio e anche per esempio le lezioni su Skype che in questa quarantena tutti noi abbiamo fatto. Sì, sì. Che io, devo essere sincero, le ho fatte anche diversi anni fa. Se può fa. Se può fa. Non è la stessa cosa di andare a lezione da qualcuno. Io lo dico sempre. Nonostante io abbia... Guardate, allora, nonostante io abbia una scuola online... Esatto. Infatti, lo dico... Nonostante io abbia una scuola, la prima cosa che dico a tutte le persone che si iscrivono alla scuola online è che in verità è sempre quasi... In verità non è mai aperta perché è sempre piena. Perché io tengo a numero chiuso. Bravo, sì. Perché? Per potersi dedicare in maniera maggiore, proprio per non essere dozzinali, perché la lezione online, non essendo come una lezione frontale, in presenza, è più difficile avere la sicurezza che l'allievo ha capito. Guarda, è difficilissimo. E quindi è un casino. Quindi in verità... Ma più per noi, eh? Più per l'insegnante che per l'allievo. E infatti, tutta sta cosa montata è anche per le lezioni via Skype. Cioè, c'è dei ragazzi che fanno le lezioni da Germania, da altre parti d'Italia, eccetera. Ma comunque io dico sempre, guarda, tu sei sicuro che vuoi fare lezioni con me su Skype? Perché? Prima, assicurati che nella tua zona non ci sia un valido insegnante, perché comunque è meglio che vai da lui. Perché lui ti vede di persona. Poi, se proprio non c'è, tu abiti proprio sul cucuzzolo della montagna e sei a centinaia di chilometri da qualsiasi posto e pensi che io ti possa aiutare, allora va bene. Allora diventi un dram stronzo. Allora diventi un dram stronzo. Ma se no, se puoi trovare qualcuno vicino, vicino o lontano, ti puoi spostare, ma puoi andare da qualsiasi posto, è meglio. Perché la lezione è in presenza, poi è ovvio, ve lo dice appunto uno che ha una scuola online, ho centinaia di video dentro al sito, cose eccetera, lezioni, l'accademia online, cioè ci sono mille cose là dentro. Tu hai fatto un sacco di bellissime cose. Però non è mai, esattamente, però ricordatevi, molte di queste cose sono per persone che non hanno neanche il tempo di andare a lezione, ed è un servizio che si mette a disposizione per quel, però se, poi soprattutto se lo devi fare di mestiere, soprattutto, perché se lo devi fare amatorialmente è relativo, ma soprattutto chi lo deve fare di mestiere, mi raccomando, rivolgetevi a dei professionisti. Apro e chiudo parentesi, ma penso che Tommaso mi confermerà questa cosa, quando cercate un maestro, un insegnante, o volete capire se la persona che vi sta insegnando, io questo lo dico sempre, fa per voi, andate a vedere dove suona, con chi suona, quello che fa, perché molte persone dicono di essere degli insegnanti, dei maestri eccetera, ma a parte suonare con il gruppetto della cover band non hanno fatto nient'altro, quello è pericoloso, quello ti fa perdere tanto tempo, quello sensato. In questo conservatorio ci stanno moltissimi di questi episodi, esattamente, perché lì si entra con una graduatoria, che molte volte è per scartoffi, bravissimo, quindi molto spesso c'hai un insegnante nel male che ti va, l'insegnante di strumento, che può essere la cosa peggiore, non ha fatto mai orchestra, o non ha mai fatto il solista, o nella peggiore di ipotesi non sa manco come mettere mani, e purtroppo quello sta là, e non lo schiodi finché non va in pensione, e questo è un danno pazzesco. A quello dovete stare attenti, se dovete fare il conservatorio. Quindi dovete essere intelligenti anche a pensare, ok, fammelo andare via. Insomma, ecco, i corsi online sono fichissimi, perché ti permettono di stare a casa, ti permettono di, magari se stai, che ne so, io per esempio in questa quarantena stavo sempre con mio figlio in continuazione, e l'uniche poche ore a disposizione che avevo erano la mattina, quindi io ho cominciato a svegliare a me alle 5 e mezza per lavorare su me stesso fino alle 7 e mezza, perché poi lui si svegliava e finita la pacchia. Per esempio, metti caso che il lavoro che tu fai durante la giornata ti prende tantissimo tempo e non hai, come dice giustamente Rodolfo, tempo di andare a lezione, ti dedichi quella mezz'ora, quello, chiaro non ci sono lezioni di batteria alle 6 di mattina, o a meno che... Allora, in verità, in verità, io penso di essere l'unico al mondo... Spot! Allora, spot, io penso di essere l'unico al mondo ad avere due allievi, un poliziotto e un carabiniere che vengono a fare lezione qui la mattina alle 7 del martedì e del sabato. Penso di avere... Io pensavo di aver visto tutto e invece non ho visto tutto, bravo! Faccio lezione alle 7 di mattina? Cioè, sei il mio eroe. Perché se no ma restano, possono farlo. Cioè, ah, perché sono certo il poliziotto e uno a carabiniere. Vengono insieme con la volante. Bellini, mi vengono e mi portano via. Quindi, quindi, ogni corso è buono. Però accompagnare a qualunque tipo di corso, sia in presenza che online, la visione di concerti dal video. Assolutamente. Suonare nelle James Session, buttare... Cioè, andate a suonare pure a culo. Sì, è vero. Ma anche se, per esempio, se tu vai a fare un viaggio, vai a Praga, cercati, su internet, sui giornali, dov'è che fanno James Session? Sì, sì. Anche perché, cioè, tu non puoi mai sapere chi incontri. Sì, sì. Magari becchi uno che ti cambia la vita. Puoi incontrare C. Jones, capito, che ti chiama per produrre un disco. Sì, sì, può succedere a qualunque. Quindi, non pensate chi mi caga, chi mi caga. No, no. Andate, suonate, suonate, suonate. E più suonate con strumenti che non sono i vostri. Io adoro suonare con strumenti che non sono i miei perché mi devo adattare allo strumento. Io quando vado al vivo a suonare, un po' perché mi sono rotto di portare la batteria. La batteria, carica e scarica. Però va bene, lo faccio. Ma molto spesso porto il mio rullante, i miei piatti, ma e le pelli. Perché se, mi informo prima che i batteri ci stanno, le pelli sono sempre una merda. Però, la batteria, va bene, cioè, va bene, ok? Quindi, semmai mi porto qualche pelli nella sacca, se sono disastrose le cambio. Però figo, figo perché abituarsi a, è come se fosse un rapporto con una persona nuova. Cioè, fai un rapporto con uno strumento che non è il tuo e ti verrà un concerto diverso da quello precedente. Sì, sì, sì. E questa è una figata. Pensi le cose in maniera diversa. La linfa vitale della musica è la diversità ogni giorno. Non ci può essere tutto sempre uguale, se no, mori. È finita. Allora, io vado avanti con un po' di domande. Allora, visto che sei reduce da... Tu hai fatto... Allora, quali sono le trasmissioni che hai fatto prima di Sanremo? Allora, trasmissioni sempre in orchestra. Sì. Ho fatto... Beh, la prima è stata proprio Gianni Morandi che non era proprio una trasmissione, era un concerto in diretta due giornate. Ah, figo. Il 7 e l'8 ottobre 2013, mi pare, all'Arena di Verona. Beh, peraltro posto meraviglioso quando suoni lì dentro... Fantastico, con un'orchestra pazzesca, eravamo 100 ragazzi più tutta la band, la ritmica, quindi eravamo tipo 120 sul palco, 121 perché c'era pure Gianni, e da lì poi ho cominciato a lavorare con De Amicis, con Leonardo De Amicis, che mi ha chiamato subito dopo, quindi un mese dopo mi ha chiamato per Ti lascio una canzone. Ah. e ho fatto di lascio una canzone sette, settima e ottava edizione. L'ottava fu purtroppo l'ultima, vabbè. Quindi, queste due. Poi, dopo un po', l'anno successivo mi hanno chiamato per Ora o Mai Più, dove lì ho suonato oltre che ai timpani, anche tutte le percussioni latine, quindi c'avevo un set enorme. C'avevo percussioni latine, quindi timbales, Congas, Campanacci, Shaker e poi timpani e Glockenspiel. Cioè, avevo tipo un negozio di musica. È una banca rete. Salutiamo Claudio, ciao Claudio. Ciao Claudio di Musicarte Roma. Andate a comprare gli strumenti nei negozi musicali. Di musica, sì, sì. Nei negozi musicali perché ci sono persone come voi che vi possono consigliare e poi andate a provare questo strumento. Sì, gli strumenti vanno provati, raga. Andate da Claudio da Musicarte via Germanico. Via Germanico. Oggi l'ho sentito per telefono. Io andavo a prendere delle cose che mi sono arrivate. Quindi, quindi queste trasmissioni non mi vengono in mente. Ok, e diciamo, quali esperienze? Sanremo. E Sanremo, ovviamente. Mi vengono in mente altre trasmissioni. No, dicevo, le cose particolari che non capitano fuori dalla televisione e quello che invece in televisione, cioè le cose che quando fai le cose televisive proprio devi stare attento perché è quello che ti capita. Allora, sì. In televisione i tempi televisivi sono disastrosi. Tutta una corsa. No, sì, bravo. Quando la prepaggia. È tutta una corsa e tutta una lentezza pazzesca. Perché? Cioè, è sempre così, è fisarmonica. Ci sono ore e ore e ore in cui non fai nulla e poi si concentra tutto in tre minuti. Quindi devi essere, devi passare, devi essere anche in grado. Perché? Perché? Scusami, perché questo? Uno si può chiedere perché questo? Perché ci sono esigenze diverse. In televisione ci sono esigenze di scena, regia, il balletto, il cantante in playback, il direttore di palco che si incazza. Esatto. Cade la luce, mette a posto. Cioè, sono tempi biblici. Quindi in una giornata di otto ore lavorative che si sta là dentro, a meno che non sono giornate, perché noi si andava in diretta, per esempio, ti faccio l'esempio di Ora o Mai Più o ti lascio una canzone. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, prove. Forse anche a volte anche il venerdì. E poi la diretta, quindi o il venerdì o il sabato, la diretta. Quindi i giorni di prove, spesso, i primi due giorni di prove eravamo solo un'orchestra. Quindi fighissimo, perché i tempi li dettavamo noi. Poi dal mercoledì, giovedì, se la diretta era il venerdì, quindi gli ultimi due giorni, prima della diretta, entrava in scena la regia, la scena. Quindi le telecamere, i cameraman che si muovono, quindi rifai tre mila volte il brano perché va scelta la camera giusta e poi si va in diretta il giorno dopo. I tempi dell'allestimento proprio, della regia, di tutto quanto, sono molto, molto dilatati. E quando invece devi suonare, devi essere concentratissimo. Quindi c'è questa tensione di stensione, tensione di stensione, che se non sei bravo a gestire, rischi che vai un po' fuori di testa. Sì, perché stai tranquillo, poi c'è tutto, 100% di concentrazione, poi te li fermi, poi ripatti, poi rifetti, è di scemo. Esatto, e quindi questa è la prima cosa che mi viene da dire, la differenza tra televisione e live e orchestra sinforia. perché il concerto mentalmente tutti ci avvicini gradualmente al concerto, al momento della performance, no? E ti avvicini tutti insieme, musica, regia, musica, La diretta televisiva o queste cose qui è un niente e poi tutto insieme a valanga ed è un casino. Per esempio, l'emozione, la frizzantezza dei minuti prima di Sanremo che sai che stai in mondo visione, cioè quella è una cosa che se non hai il cuore che ti tiene è occhio, cioè è veramente molto... Poi devi essere bravo ad affrontarla come fosse il concerto sotto casa, ma non perché non è importante, ma perché devi essere... è tutto sempre un concerto importante nella tua vita, non ci sono concerti di serie A e di serie B. Eh, bravo, io dico sempre questo, molti musicisti, non so se ti capita, ma io mi incazzo quando sento questa cosa, mi dicono vado a Fana Marchetta. No, no. Ma che cazzo stai a dire? Cioè nel senso, io ho capito che tu dici, però se tu vai con quell'approccio per guadagnarti i 100 euro, ma tu di sicuro suoni di merda. Tu immagina un medico. Vado a Fana Marchetta, è il medico. Tu immagina un medico che va a visitare, ma questo è vecchio, amore, per dire. Cioè lo stesso ragionamento. Esatto. Quello fa danni, ma facciamo danni pure noi. Sai a chi facciamo i danni? All'immagine del musicista. Del musicista. Che è sempre più, stiamo avanti nel tempo, peggiora sempre. Sempre più il reietto, quello che non... Che fai di lavoro, musicista? Sì, vabbè, ma che fai di lavoro? Cioè io pago le tasse, faccio, ho mio figlio a scuola e lo pago l'asilo tramite la musica. Regà, noi siamo persone che lavoriamo da mattina a sera. È vero, è vero, è vero. E ti dirò di più, molte volte io scopro che guadagno molto più di un ingegnere o di un avvocato e quindi ma che cazzo state a dire? Stai facendo una cosa di me. Certo, se ti prepari alla musica, noretta ogni due o tre giorni e poi dici faccio il musicista e poi ti incazzi perché non c'è lavoro, sei un coglione. Sì, sì, sì. E non c'è pietà per gente come te perché molte delle persone dicono ma scusa ma tu come hai studiato? No, da autodidato, ma tu fai musicista? No, perché io faccio musicista. Ma che cazzo stai a dire? Lì sa che ci vuole il medico che fa una marchetta. Bravo. Cioè, se è così morirai di fame ma perché te la sei cercata. Ma se lo fai veramente puoi vivere dignitosamente. Certo, probabilmente non diventi un miliardario ma neanche mori di fame se lo sai fare bene o decentemente. Io a volte vedo delle cose agghiaccianti perché gente che dice no, ma non c'è lavoro, non c'è lavoro. Ma non c'è lavoro, tu non trovi lavoro perché tu non hai le competenze per trovare lavoro. E aggiungo alle competenze l'attitudine, l'atteggiamento. L'attitudine, certo. bisogna essere sempre positivi ma non perché devi essere quello finto col sorriso finto. No, devi essere sempre entusiasta, contento o comunque insomma farti vedere che sei in giornata come si dice. Quindi non arrivare al lavoro così ma perché la musica è fatta di interplay, di interazioni, di rapporti. La musica è comunicazione. Se tu non stai nella positività della comunicazione tu cazzo vai. Un musicista si può anche differenziare non solo per la tecnica, per il curriculum ma anche per il carattere. Esattamente. Queste tre cose insieme formano il musicista buono. Che può funzionare. No, no, che funziona. Che funziona. Il musicista che funziona. Poi ci sono tante altre cose. La puntualità. Ah, una cosa prima che me l'ascordo a me me l'hanno insegnata che è importantissima. Vedo dove te la va. Cioè nel senso che no, mica io Drampuzzi No, lo sai perché? Ti è capitato? Cioè tu vai in studio di registrazione e stai in session magari con uno che suona che non si mette il deodorante e te c'hai il mal di testa perché questo puzza quindi ragazzi se volete lavorare con gli altri non permettete a nessuno di dire che quel giorno stavate in studio con quello e non vi siete lavati non vi siete messi il deodorante e 8 kg di profumo perché va aggiunta quella cosa cioè lavatevi lavatevi cioè guarda sembra una cazzata ma gli studi di registrazione adesso io no qui abbiamo messo una telecamera col grand'angolo ma in verità tramite cioè è piccolo c'è il metro c'è il metro del covid metro e mezzo però in verità sono ambienti piccoli sono ambienti piccoli quante volte ti capita di stare a registrare che appunto c'è il bassista qua c'è il chitarrista lì quindi prima cosa dovete essere presentabili e odoranti odoranti si può dire poi quello che dice Tommaso è sacrosanto l'approccio allora apro e chiudo parentesi è entrato lui dopo io sono arrivato questa mattina a studio alle 7 dicevo io sono arrivato qua stamattina alle 7 e ho fatto lezioni ho registrato delle cose ho provato per fare la diretta quindi quando abbiamo cominciato la diretta erano già 14 ore che ero sveglio ok te alle 9 di mattina mi hai chiamato e mi hai detto guarda sto registrando dovrò tutto registrato quindi però lui stanchi tutta quanta la giornata dopo 14 ore già di lavoro lui è entrato qua mica ha detto eh sai vabbè dai facciamo sta cosa lui è entrato voglio la maglietta dei drumstrom cioè allora questo approccio io gli ho detto zio ma la fai prenda bene io me sono quasi cioè quasi agitato dai andiamo in diretta capito come ma hai appena ricordato che ho fatto 12 ore di studio adesso non ci stavo a pensare complice il fatto che lo fai perché per te è un divertimento anche il tuo lavoro lo ami il tuo lavoro però ecco questo è proprio l'esempio calzante di tutto perché è una cosa deve piacerti questo lavoro perché è molto faticoso è fatico sì fisicamente ti ammazza sì sì è vero ed è bello questa cosa che hai detto cioè lui è entrato qua che io pure devo dire la verità io ho finito lezione un'oretta prima che arrivassi non ho mangiato fatto cioè mi sono bevuto una cosa una cosa al volo così l'acqua ho visto ma funziona il programma per andare poi hai visto sei rampallato però quindi già stai che hai 14 ore sulle spalle e vuoi fare una diretta vuoi fare una cosa cioè se non stai se non sei abituato ad essere positivo e a dire ok adesso 3 2 1 vai cioè non lo puoi fare sto mestiere e quindi consiglio per tutti quei ve la dovete fa piare bene come io me la so fatta prende a bene appena l'ho visto perché lui la prima cosa che ha fatto se l'è fatta prende a bene con la maglietta dei drumstrosi assolutamente quindi è così il gioco è questo te la fai prendere a bene anche se ti piace quello che fai quindi queste cose non sono cose musicali sono cose di rapporti umani che però vanno aggiunti alla tabella dei bpm quando studi no questo ho fatto sono stato entusiasta sì è vero è vero me la so fatta prende a bene non bisogna essere motivazionale ah fatta via bene no quelle sono cazzate quella è finzione quella è finzione la realtà è quello che ci siamo diti adesso c'è poco da fare per poi scendere un pochino più invece nell'aspetto tecnico degli strumenti musicali che è una cosa della quale volevo parlare ecco un consiglio per chiudere questo perché abbiamo parlato di essere positivi eccetera io sono un po' allora il motivazionale fa sempre bene eccetera però se vi serve motivazione in verità vuol dire che non avete abbastanza spinta secondo me non si ha abbastanza spinta per fare questa cosa di mestiere cioè se devi motivarti o ti ci vuole il motivator in verità non puoi fare sto mestiere secondo me cioè perché vuol dire che non c'hai abbastanza batterie cariche per andare perché molte volte ti capita il tizio che ti insulta suoni male potresti essere nella giornata no e non ne pidi una vai a fare un concerto sono cinque persone io il concerto peggiore della mia vita teatro di 800 posti solista cioè marimba timpani e pianoforte concerto tutto preparato due persone di pubblico due perché colpa tua no perché a te ti aveva chiamato la prologo non avevano fatto pubblicità quindi tu vai che fai 800 posti vuoti due persone di pubblico concerto dall'inizio alla fine diciamo che facciamo niente facciamo una prova in pubblico con due persone di pubblico pace però resisti se in quel caso ti fosse servito uno ma no ce la farai tu sei una persona speciale e allora vuol dire che hai finito dietro quello con tutto il rispetto con le persone cioè le persone che ci lavorano che fanno questo di mestiere però devi è molto più vera la cosa la vita non abbiamo soddisfatto perché dobbiamo parlare per ore però è vero non ti deve servire il motivator quando si dice a scuola al liceo però devi essere sempre punzecchiato io mi ricordo che quando ho capito che dovevo studiare comunque per me non lo facevo per i miei genitori non lo facevo per quei insegnanti ma lo facevo per me ho cominciato a capire ho cominciato a capire molti più cose e andavo bene a scuola quindi non c'è non c'è bisogno di uno con la canna da pesca che ti fa perché se no questo è l'ultimo dei mestieri che ti conviene fare veramente con tutto rispetto vai a fare il pane che è una cosa meravigliosa fai la pizza fai il tassista che sono tutti nobilissimi lavori però se hai la giornata che non va se fai il tassista vabbè quello che andrà vicino a te insomma se la prenderà un po' a male però non fai danni comunque nella musica è un problema sì perché la tua negatività perché la tua negatività passa agli altri e quindi succede un casino allora invece passiamo de palo in frasca tecniche imparate sugli strumenti classici e sinfonici che utilizzi sulla batteria che figo allora ti piace sta domanda dimmi la verità io mi vorrei rispondere da solo ma voglio che parli tu dai rispondi tu no 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 spengo il microfono allora rispondo io e poi rispondi tu perché scusa stavo a fare l'intervista io te rimpallo io te rimpallo le cose hai capito allora hai fatto una domanda stupenda perché è una cosa è la base di come sono io io non sono batterista io non sono un percursionista io non sono cerco di essere tutto proprio perché suonando tanti strumenti io oggi ho registrato tra oggi e ieri congas campanacci shaker marimba vibrafono timpani rototom tamburo ok che cos'è non è un circo ogni strumento ha la sua tecnica ogni strumento ha la sua vibrazione la sua risposta ed è anche per questo che le percussioni classiche sono difficili perché sono tante tecniche diverse però come si come si unisce la storia io ho capito tramite le percussioni classiche tramite i timpani tramite la marimba in realtà che il suono non va schiacciato giù come facevo sempre con la batteria ma va rivolto verso l'alto domanda perché i microfoni si mettono in alto e non per terra perché il suono va in alto ok quindi quello che io ho capito nel conservatorio comunque studiando questi strumenti classici è la prospettiva del suono è verso l'alto di conseguenza anche il mio movimento deve essere verso l'alto quindi se vuoi una cosa tecnica ti dico quando io ho cominciato a studiare i timpani i movimenti i colpi proprio singoli in appoggio sì sì ho fatto la stessa cosa sulla batteria bene la batteria suonava tre volte di più sì sì tre volte di più quindi io faccio io faccio fare ai miei studenti più volenterosi più cazzuti faccio fare ogni tanto una volta al mese una lezione sui timpani ma non perché devono diventare timpanisti ma perché devono capire quello che gli sto dicendo il suono questo che io sto dicendo purtroppo magari non può essere capito se uno non ha avuto un'esperienza sul timpano ma il timpano a parte che se lo suoni male non suona la batteria se la suoni male a volte purtroppo suona cioè nel senso le pelli comunque vabbè non è che suona bene però il suono e la cosa peggiore può essere magari studiato sulla batteria elettronica per dire comunque quello che io ho imparato nella musica classica tramite la musica classica è il suono quindi se prima era un batterista che suonava ok dopo dopo aver studiato le percussioni classiche era un batterista che suonava ok ok cioè quindi ho capito quindi ho pur non suonando questa cosa la dico sempre pur non quando ho cominciato il conservatore nel 2007 ho smesso di studiare tecnicamente la batteria perché non c'era tempo perché tutte le percussioni pianoforte solfeggio canto corale storia della musica armonia cioè ma chi c'ha tempo ma chi c'ha tempo c'è anche una vita privata quindi tutte queste cose mi hanno insegnato la batteria cioè non studiando la batteria io ho studiato la batteria io ho approfondito ho fatto un master di batteria pur non suonandola perché poi ogni volta che mi mettevo a suonare o i miei compagni di band mi dicevano ma che ti è successo ti è cambiato il suono e io non capivo per che cosa mi stessero dicendo poi ho capito sì perché sei abituato ad ascoltare le cose sotto una prospettiva diversa è una proiezione del suono diversa bravissimo perché poi la proiezione quindi se la batteria è questo bam i timpani è questo bam capito e la marimba uguale marimba se tu schiacci schiacci non suono quindi la cosa che vi consiglio è di provare ad approcciarvi in questo senso quindi come dire proporre il suono verso l'alto dove è giusto che vada verso l'alto questa è una cosa che io dico sempre ai miei allievi e quando vedo le facce quando capiscono cambia la faccia sì sì cambia la faccia perché senti quella sensazione è una cosa figa quando capisci questa cosa io quando l'ho capita mi sono emozionato tu 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 utilizzi timpania una cosa che io ho fatto per spiegare l'accordatura sì oddio quello che io più che altro per far capire bene gli intervalli ah vabbè quello sì per gli intervalli uso anche magari il pianoforte però per esempio una cosa che io faccio fare quando accordo è usare il mallet ah certo giusto che la bacchetta perché la bacchetta c'è sempre quell'attacco l'attacco che dà fastidio per la nota bravo è come se fosse un po' falsato è come quando uno studia i rudimenti con la cordiera sono tutti buoni a suonare i rudimenti con la cordiera suona senza cordiera giusto certo oppure io faccio studiare i rudimenti per terra su un tavolo o sul rullante da marching band lì non ti regala niente nessuno eh certo lì se un rullo viene male se vede sul parquet o su un io faccio comprare delle lastre piccole di legno da mettere su un rullante per suonare i rudimenti perché duro su duro ti fa ti fa uscire fuori quello che veramente stai suonando certo capito non ci sono risonanze cose che che mischiano un po' il suono poi quando studi bene su una sovraficie dura vai sul tamburo con la cordiera e ti suona la paura sì quindi questa è una cosa che è fighissima oh tamburo classico ok quali sono gli esercizi comodi che cioè esercizi comodi esercizi che consigli di fare le cose che tu che utilizzi molto nella classica che però poi effettivamente quando suoni la batteria servono guarda io sono un amante dello studio di passi orchestrali ok cioè quando devi studiare la tecnica intanto tu parla io ti metto in carica la cosa sì sì vai non ti ammazza quando studi la tecnica studia sicuramente la cosa proprio anche ripetitiva al loop però poi cercati un passo orchestrale o una io dico passo orchestrale perché intendiamo il rullante sinfonico studiate un passo orchestrale che ha quel rudimento quindi io faccio sempre così studio il rudimento specifico il rullacinque per dire e poi mi trovo un passo orchestrale dove c'è il rullacinque dove posso mettere in pratica musicalmente quello che io ho appena studiato ma lo faccio subito non è che la prossima settimana sentiamo questo no subito devi essere subito in grado proprio la prima lezione vuoi imparare un ritmo ti faccio sentire subito una canzone che ha questo ritmo ti faccio subito suonare quel ritmo su quella canzone su quella canzone perché guarda che suonare sulla musica io lo vedo sempre con gli allievi ti aumenta l'adrenalina quindi non studiamo sempre solo col metronomo ma io per esempio lo chiamo metronomo musicale la canzone la canzone oppure esistono mille applicazioni sul telefono di loop prenditi un'applicazione che abbia un loop oppure qualunque altra cosa quindi poi quando poi porti questo studio del tamburo classico sulla batteria un esempio pazzesco è Steve Gadd come no Steve Gadd ha applicato proprio i rudimenti in maniera stramusicale sulla batteria quindi se vuoi studiare i rudimenti sulla batteria vatti a ascoltare Steve Gadd che poi lui usa i rudimenti preferiti suoi sono appunto il rullo a 5 il rullo a 6 quella roba lì il Radamachiu il Paradiddle in tutte le salse però sono quelle tre quattro cose che mosse come le muove lui diventa sinfonico questa è una cosa buona non bisogna sapere tutti e quarante i rudimenti o i 128 rudimenti composti della cosa tanto poi sono sempre quelli i rulli i colpi singoli tu pensa le maledizioni che ci stanno mandando tutti quelli non sai che non ce ne frega un cazzo però pensa che ci stanno a dire adesso comunque questo poi è il nostro pensiero venite a dire il vostro pensiero venite qua però è questo poi un'altra cosa ha detto bene Steve Gantt si è scelto dei rudimenti preferiti fateveli anche voi cioè fatevi uno zenetto io sono venuto con lo zenetto tu ce li hai là dentro io ce l'ho là i miei rudimenti preferiti fatevi i vostri rudimenti preferiti in modo tale che il vostro drumming pure possa diventare riconoscibile anche in base a come voi applicate un rudimento quindi non è che il rudimento è una cosa oddio non mi fate fare tecnica voglio fare la canzone no la tecnica è proprio tecnica per fare la canzone per farla meglio quindi quando per esempio l'allievo impara a fare il drag il flam che lo mette dappertutto è contento e dice no ok fermo fermo perfetti solo uno almeno quello ha un valore quanto è più bello gli dai un peso esatto quindi studiate sempre in relazione alla musica esattamente basta altra cosa importante questa la dico perché nella musica classica soprattutto i percussionisti imparano una cosa e che però io da battere a contare a contare cioè le pause ragazzi le pause le pause sono più importanti del suono secondo me cioè quando uno mette una pausa al punto giusto è più importante quella cioè rende la nota che farai dopo se la fai se la fai perché può essere che conti male che conti male e suoni male adesso vi racconto un piccolo aneddoto e praticamente quella nota ci avrà un peso maggiore vale molto di più esatto perché il suono del colpo che dai è avvalorato insomma è aggiunto dal suono della pausa che è stata precedente che è stata precedente la pausa è una delle cose che in musica classica nella musica ecco nella musica classica dato che tu ti devi sempre attenere allo spartito del compositore è tutto scritto è tutto scritto non è che dici vabbè lì mi piace di più se ci metto l'unico che interpreta è il direttore è il direttore ma interpreta non le note ma il flow cioè il flusso di come si deve muovere l'opera e di conseguenza anche come tu devi suonare e quindi come devi suonare le pause giocano un ruolo talmente importante che un pochino noi nel pop nella musica moderna eccetera perdiamo questo concetto e spesso e volentieri infiliamo fill drag rudimenti e cose un po' dappertutto appena c'è un vuoto uno lo riempe spesso e volentieri il batterista anche se dai un colpo di timpano uno senza nessuna tecnica fai boom ma in un momento che valorizza una certa cosa musicale quel colpo vale come se tu avessi fatto un rullo a 50.000 ok cioè questa cosa io l'ho ereditata dalla musica classica ora metto un punto io su di te e dico registratevi perché anche col telefono qualunque cosa e risentitevi perché hai detto una cosa giusta perché hai messo un timpano soltanto perché se invece perché tu quando vai a riscoltarti ti rendi conto che un po' ma che non gira ok fai varie prove e ti rendi conto che la migliore è sempre quella con meno note con meno roba leva 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 levare levare altronde levando si trovano l'archeologia trova delle cose meravigliose e noi leviamo note troviamo delle note ancora più belle e funzionano e funzionano io le canzoni più belle da quando so bambino che ascolto che tuttora ascolto eccetera sono quelle che sono le più facili le più semplici quelle che apparentemente non hanno niente e che invece ci hanno tutto cioè che invece ci hanno tutto e che nonostante tu le conosci da 40 anni ti piacciono ancora ancora ti danno quell'emozione perché quella costruzione tutto quanto l'interruzione cioè almeno la musica sarebbe l'interruzione del silenzio cioè se tu lo valorizzi sto silenzio poi è molto più bello anche il suono che tu metti in quel determinato punto quindi batteristi che mettono secondo me troppi fill troppi impicci troppe cose in verità riempono un silenzio che forse era meglio che rimanesse insomma che rimanesse tale questa è una cosa molto bella dall'altro un motorista un batterista che riempie troppo non viene chiamato no in alcuni ambiti attenzione nel metal devi riempire devi fare tutte appiccicate però per esempio nel pop nel rock o comunque qualunque cosa spesso nel jazz un batterista troppo è più importante l'aria del suono esatto esattamente dei colpi anche perché se uno poi capisce che l'aria appunto ah ma poi un'altra cosa importante anche capire il numero di note in base anche a dove stai suonando tu stai suonando in un posto con un reverbero enorme è inutile che suoni si capirà niente è meglio anzi pensa che bello un timpano così che dura mezz'ora quindi come suono come suono io la stanza è una è una è la prosecuzione del tuo suono la stanza è come fosse un altro timpano cioè è un altro strumento la stanza devi essere sempre in grado di percepire dove stai suonando non puoi pensare che ogni concerto che fai con la stessa batteria stessi microfono suona uguale la stanza in realtà tu suoni grazie alla stanza esattamente giusto? si 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 corregimi se sbaglio no ma che sta male quindi è una cosa è una cosa importantissima anche l'attenzione all'ambiente l'attenzione intelligente all'ambiente quindi i locali di Roma per esempio qualunque locale non facciamo pubblicità se uno se tu sei uno che lavora magari che ne so tre volte a settimana tutti i weekend per dire non puoi avere lo stesso suono tutte le sere perché cambia il suono del locale quindi imparare a capire che il suono dove stai suonando influisce sul tuo suono è una cosa intelligente assolutamente assolutamente quindi questa cosa qua è quello che fanno i direttori d'orchestra a seconda dell'auditorium dove suonano cioè mi è capitato di suonare a Santa Cecilia e ti dicono guarda i timpani facciamo così cambia il battente vogliono un battente diverso per esempio oppure la marimba si sente l'oxilofono si sente molto il dettaglio si sente poco il corpo e viceversa soprattutto con la marimba perché l'oxilofono in verità sta sempre con gli archi sempre acuto però quindi il direttore o il percussionista bisogna sempre capire anche con quale bacchetta suonare con quale cosa e quella cosa lì devo dire la verità più che nei live mi ha aiutato molto nei dischi con la batteria perché la scelta a volte di una spazzola piuttosto di un'altra è come no però tu perché non tanto perché poi chissà che spazzola hai usato però ti è venuto in mente quel ragionamento cioè il tuo orecchio si andava a tarare più che sullo strumento quindi direttamente sul suono della membrana io spesso e volentieri penso il suono a due o tre metri ok per quel motivo lì per quel motivo lì come i cantanti esattamente quindi questa cosa qua è importante cioè ereditiamo da quello che ci dicono appunto io e Tommaso che abbiamo avuto un percorso di musica classica cerchiamo di buttare là delle cose che se ascoltate la musica classica dopo un po' cominciate a notare ok assolutamente e quindi tra l'altro ascoltate la musica classica bravo ascoltate la musica classica non soltanto quando state a fare i fricchettoni con la canna nel senso ascoltare la musica classica ma anche perché anche cercare di capire da dove veniamo sì cioè tu ti rendi conto di alcuni compositori che stavano avanti rispetto ai loro tempi e se vi piacciono le percussioni ascoltate tutto il novecento eh sì Marese Stravinsky quindi insomma c'è tanta roba poi se avete domande fatecele noi ci rispondiamo in diretta o comunque insomma anche dopo beh allora ci consigliate un disco allora se volete fare delle domande anche per chi vede questa diretta non cioè la vedrà in futuro non oggi per fare delle domande dato che Tommaso è nel Drum Start Club di Facebook assolutamente sì se voi entrate dentro il Drum Start Club e taggate Tommaso ci mettete chiocciola Tommaso Sanzonetti e mettete una domanda ovviamente lui la vede nel club e quindi vi può rispondere nel club e io l'ho fatta apposta questa cosa infatti visto ci sta Ezio Zaccagnini che poi sarà ospite qua e altri batteristi da riesposio insomma tantissimi batteristi che stanno piano piano entrando in questo club io l'ho chiamato dove chi vuole fare delle domande che sta imparando trova anche dentro dei professionisti che possono rispondere e quindi se volete fare una domanda a Tommaso adesso io le leggo a parte che praticamente non ho visto domande ho visto solo gente che ci salutava e che faceva i complimenti poi adesso li salutiamo però se volete fare una domanda a Tommaso andate su Facebook scrivete Drum Start Club e taggate uno di noi o tutti e due eccetera e vediamo la vostra domanda e vi rispondiamo nel post e questo ti devo dire che sei un grande perché spesso quando si sta su internet si tende a oddio mi piacerebbe tanto chiedergli una cosa ma chissà se mi risponde e invece tu hai creato hai eliminato le distanze sì ci provo almeno ed è una cosa buona è una cosa molto bella quindi complimenti applauso per Rodolfo grazie grazie immagino che tutti stanno adesso applaudendo perché hai fatto una cosa fichissima gli applausi gli applausi gli applausi gli applausi quindi assolutamente a disposizione io stavo per dire mandatemi una mail però hai fatto la cosa giusta perfetto così rimane là anche perché la domanda che fai tu può essere interessante comoda anche per una persona che magari fra un po' di tempo esatto non solo in realtà la mia risposta potrebbe essere esaustiva fino a un certo punto può subentare un'altra persona esattamente che risponde l'idea della comunità è fichissima il club il club scusate sì prima si chiamava community però alla fine club si si chiamava tram start community però la parola community è lunga invece club è corta quindi risparmio sulle lettere capito stronz tram club però capito l'idea l'idea era questa qua e allora ragazzi io adesso leggo un attimo se ci sono delle domande yes comunque la diretta non ha perso un colpo è incredibile io pensavo che saltasse tutto invece in full hd attenzione siamo felissimi la diretta in full hd siamo very full guarda che roba guarda che roba guarda che roba full hd guarda che roba speriamo che io non sento tu hai troppi capelli per i miei gusti sono troppo felato questo full hd non mi piace perché il full hd rende molto più evidenti i problemi i problemi fisici allora vediamo un attimo le domande buonasera ciao che cosa Marco faremo le dirette di storie di batteristi faremo le dire oh ma ti va di partecipare a una diretta di storie di batteristi ma te credo ma te credo con Marco subito facciamo così dopo ci mettiamo d'accordo mi dici in batterista che te piace prepariamo la storia la facciamo in diretta e vieni pure te dai dai se tagliamo ma di che tipo vivente morto come te pare un batterista del quale magari sei particolarmente appassionato di quelli che non abbiamo già fatto magari però certo qualcosa che non abbiamo fatto per forza capito ma mi sembra un'idea bellissima dai 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 allora mi organizziamo Marco Vollaro io sento ragazzi noi siamo la prima scuola di batteria al mondo ad avere il guru il guru Marco Vinsoni il guru alto livello guru fantastico a un certo punto l'ho visto scrivere me l'ho scordato aspetta vediamo poi se n'è andato ci sta il guru eccolo alto livello sto seguendo punto state attenti meraviglioso ci fa un culo così cazzo vedi vedi il guru il guru lo sai dove sta il guru il guru sta sia nel club dentro dai che nel canale telegram nel gruppo telegram io non ci sono però mi devi aggiungere ti devo aggiungere su te allora ci abbiamo il gruppo di telegram sarebbe un whatsapp però in verità non tracciato da facebook e dove è una specie di facebook e whatsapp messo insieme in verità però dove non c'è pubblicità allora aggiungi ci sono le cose eccetera e è figo perché si usa come whatsapp è ugual a whatsapp però c'è il gruppo telegram e all'interno del gruppo diciamo le persone che vogliono chiedere un consiglio tipo mi devo comprare una cosa oppure ragazzi sto facendo questo esercizio oppure io quando faccio le live dove suono le canzoni ci posto i pdf degli spartiti le basi e ti permette di caricare anche dei video un po' lunghi quindi in verità per una community più ristretta cioè per chi vuole avere un po' più mi devi aggiungere subito allora se volete ci trovate troverete tra poco anche Tommaso t.me slash drumstart official quello è il canale telegram di drumstart e sotto se volete commentare scrivere domande eccetera c'è scritto commenta e venite rimandati al gruppo telegram che sono due cose associate capito come funziona è una cosa carina io non scrivo tanto lì dentro perché non voglio neanche far arrivare 50 messaggi al giorno le persone però prima della diretta per esempio ho detto ragazzi io fra mezz'ora vado in diretta e i ragazzi della community lo sanno come se fosse un messaggio whatsapp capito come quindi quello è e per scambiarci spartiti cose cioè veloce bellissimo allora puoi scriverci a sto punto ci potete scrivere anche sul gruppo telegram t.me slash drumstart official ok questo è figo questa cosa è figa mi piace perché allora vediamo un po' era arrivata una domanda Francesco vai Francesco che ci dici stacco che se no non leggo il cevedo più è il capitano chi è? io non cevedo più cevedi più porca troia allora a proposito di musica classica quale compositore consigliate all'inizio per quanto riguarda le percussioni allora è bella domanda perché è figa sta domanda è fichissima cioè praticamente tu sei neofita di percussioni e devi capire devi cominciare ad ascoltare un po' di musica classica immagino magari non sei abituato ad ascoltare la musica classica e iniziare con una cosa che non sia troppo troppo pesante tipo un Bartok magari non è oddio beh beh capito come così però però magari cominciare a sentire io consiglio attenzione ai timpani ma anche con Mozart ma è la voglia infatti stavo di Hayden io Hayden ancora più io mi sbaglio sempre le sinfonie di Hayden io mi confondo tra quante ne ha fatte Mozart e quante ne ha fatte Hayden che è la domanda che mi hanno fatto all'esame della storia della musica e mi stavano per bocciare lo faccio pure io com'è uno ne ha fatte 142 non so quali è dei due quello è Hayden Hayden ok allora Mozart oddio ma come fai a figura di merda pure a me dai dai vai vai Hayden ne ha fatte aspetta come cazzo si chiama Wikipedia Wikipedia no non lo so e sai cos'è sti cazzi comunque Hayden e Mozart per quanto riguarda i timpani sicuramente Hayden e Mozart sì io farei un Hayden un Mozart e un Beethoven Beethoven sì beh Beethoven i timpani già so cazzuti sì però arrivaci con calma perché quando poi cominciare a sentire la settima la settima la quinta è bellissima la quinta è meravigliosa ma è bellissima pure la settima tampa tantanta tampa tantanta però io farei così se vuoi sentire se vuoi insomma conoscere i timpani farei Hayden Mozart e Beethoven nella storia della musica sì in ordine sì sì anche bravo in ordine perché Hayden è prima di Mozart e Beethoven è dopo di Mozart sì 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 quindi farei così per quanto riguarda invece tutto il resto certo c'è tanta roba c'è tanta dipende dallo strumento dipende dallo strumento allora Prokofiev Stravinsky la Sagra delle Primavera certo Sostakovich una cosa super famosa è la Sagra della Primavera che effettivamente lì c'è c'è botte da orbi ovunque capito ecco lì per esempio si avvicina molto al concetto proprio anche di batteria sì o l'Istuardo Soldà l'Istuardo Soldà fatto al diploma di quinto anno pure io per forza e poi se ti vuoi un po' bruciare i neuroni un po' di Varese tipo Ionizzazione America beh lì stiamo nell'epoca contemporanea quasi c'è il novecento novecento pieno quindi Cage lì però ragazzi lì faccio come Verdone qui papà ti chiede audacia qui papà ti chiede audacia perché visto Verdone come si chiama quel film Gallo Cedrone no Grande Grosse Verdone che lui fa la parte del professore universitario che era convinto che il figlio dovesse baciare la presunta fidanzata davanti al ratto di Proserpina e gli fa lì papà ti chiede audacia visto come fa Verdone è stupendo lì papà vi chiede audacia nel senso che occhio al novecento occhio al novecento perché se partite col novecento si no è un po' po' esse che cioè che vi vedono in mezzo all'autostrada urlanti contro mano ah così perché non si capisce niente io mi prendo mi prendo il il come si dice il compito di se vuoi scrivere sul gruppo un po' di roba da ascoltare magari magari se volete anche per strumento per strumento cioè bellissimo zio figata figata può essere interessante ma sicuramente guarda un paio di sinfonie o un paio di magari anche non sinfonie sono anche 40 minuti un paio di atti movimenti o semplicemente vi posto anche il pdf se può fare non lo so ma sì la pagina ma che cazzo dovevano ragazzi la musica io mi impegno a avvicinarvi alle percussioni classiche poi voi ve ne andate perché appena avvicinate le percussioni classiche via perché dicevo la cosa del novecento perché nel novecento c'è stato ragazzi c'è stato un momento in cui dato che anche la costruzione degli strumenti musicali ovviamente ha avuto un'evoluzione i timpani di Hayden non sono i timpani di Beethoven e non sono i timpani di Bartok anzi Bartok ha scritto quella cosa meravigliosa grazie all'invenzione del pedale del pedale dei Ludwig Sinfonik insomma ma tu dici la sonata che peraltro ma tu c'eri quando io ho fatto l'esecuzione integrale al conservatorio no io feci il concerto io feci il concerto la sonata integrale di Bartok per due pianoforte e percussioni al conservatorio puoi capire che è casino ma tu al diploma no dal diploma però feci prima del diploma il concerto cioè scusami la sera è stata una cosa un po' strana perché dato che avevo un programma enorme io avevo fatto il concerto di Rosauro quello per Marimba a 5 ottave quello per Marimba a 4 ottave tutti e due e poi la sonata quindi avevo un'ora e mezza di musica in esecuzione a memoria e allora il direttore mi disse senti ma fai il concerto quindi ho fatto l'esame di diploma alle 11 di mattina e alle 7 di sera al concerto nell'auditorio mi fece e suonammo la sonata di Bartok bellissimo che però devo dire la verità tra le tre tra le tre esecuzioni era quella tra virgolette meno digeribile perché è veramente sperimentale 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 io l'ho portata la laurea quella si porta come conclusione di un percorso enorme ma lì ci sta tutto uno studio sulla sezione laurea parliamo di cose un po' avanguardistiche quindi se dovete avvicinarvi facciamo facciamo così mi prendo questa responsabilità facciamo due tipi di approccio approccio light e approccio rambo rambo ma senti vogliamo fare una cosa visto che l'abbiamo suonata tutte e due la risoniamo qui no se ti va per i più adaci del gruppo telegram ed è una cosa che possiamo fare anche in diretta magari ci organizziamo così l'ascoltiamo l'ascoltiamo insieme e la commentiamo sulla base di quello che furono le nostre esecuzioni perché l'abbiamo suonata quindi l'abbiamo studiata io ci ho messo tu che parte hai suonato i timpani io pure però sapevo pure la parte dello xilofono io in verità l'avevo studiata tutte e due poi in esecuzione in concerto ho fatto la parte dei timpani comunque c'è tanto da dire no perché magari anche perché le persone così capiscono quando io per esempio faccio l'analisi io qua non so se hai visto vecchie dirette ho preso una canzone tipo di non mi ricordo di Angelica sarà passata una mesata forse e dicevo adesso vi faccio vedere come costruisco la batteria in verità parlavo di tutto tranne che della batteria perché tu parli della musica che senti di come incastrare lo strumento negli altri per far vedere da dove prendiamo attraverso il nostro passato di musica classica le cose che poi andiamo ad analizzare anche nella musica afro per dire bellissimo anche perché poi i primi del novecento è proprio la nascita della batteria della batteria pensa alla relazione del mondo di Milo come no ecco vi faccio una lista di brani beh Stravinsky è stato il primo a mettere in partitura nel Suor del Soldà il concetto proprio di batteria di percussione ma è perché batteria è proprio l'insieme di l'insieme di la batteria di pentole è un insieme di è un insieme di ma io c'è ma guarda mi sa che ce l'ho lì o forse ce l'ho a casa non lo ricordo c'è proprio il libro no c'è lì è risuscitata c'ho la tomba capito allora vediamo se c'è qualche altra domanda un sacco di belle idee Tommy un cucchiaino di miele pezzetta Roberto pezzetta perché tossisci perché tossisci ma poi che te spengo l'aria no 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 è covid poi poi invece qualcuno che usi percussioni sinfoniche magari nel rock vi viene in mente Mike Allfield oh tubular bells è quello che ha scritto la colonna sonora dell'esorcista andate su youtube c'è una cosa pazzesca io pelle d'oca Mike Allfield che esegue l'esorcista cioè la colonna sonora tubular bells con delle campane tubolari alte 10 metri fatte apposta di vetro una cosa stranissima avevano montato un palco tutti vestiti bianco lui usa dalla voce chitarre elettriche basso elettrico piccola sezione d'archi batterie elettroniche gli octapad c'ha 200 percussionisti se lo volete vedere applicato alla musica da film moderna quindi pop rock se vogliamo prog Mike Allfield tutta la vita lasciamo qualche link Mike Allfield io se volete i link iscrivetevi al canale telegram appunto perché lì se me lo scordo mi mandate in chat io prendo il link e ve lo butto là dentro quindi telegram è t.me slash drumstart official ok quindi Mike Allfield ti viene in mente qualcun altro? allora se ho capito la domanda è che applica percussioni sinfoniche nel moderno nel moderno però non nella classica o nella o nella contemporanea poi nel moderno la musica esattamente che mi viene in mente beh la sezione A sinceramente ci devo pensare devo fare una ricerca allora c'è scritto la sezione Aurea non mi intrippate con ste cose cos'è nella musica? beh dai velocemente beh velocemente alla sezione Aurea parliamo di matematica la musica è molto vicina alla matematica quindi rispettare dei canoni matematici nella composizione di un brano mazza oh porca miseria cioè va bene porca quindi che cosa vuol dire per esempio l'alternanza di alcuni numeri danno sì che tu puoi scegliere delle note in base a questi numeri e quindi l'alternanza scritta per esempio la come si chiama la numerazione di Fibonacci non mi ricordo qual è esattamente i numeri specifici però rispettare quei numeri matematici e rimetterli in note in note viene fuori una melodia e quindi tu praticamente compongi una melodia in base a come fosse un prestampato numerico numerico poi ne parliamo magari meglio perché questo è un bellissimo argomento certo magari avremo due visualizzazioni però lo facciamo per sport ok allora io non vedo altre domande insomma però effettivamente abbiamo chiacchierato tanto poi abbiamo fatto proprio un viaggio era fichissima questa cosa io la volevo troppo fare e sei già invitato ad altre dirette non so poi le facciamo come ci pare a parte che stiamo pure vicini se possa pure il contaccio a Villa Panfini full HD le facciamo in full HD non non sento ragioni full HD ma mando in diretta in diretta in full HD capito come hai capito che dove stiamo ma se le pause alto livello guru ma se le pause sono più importanti perché andate alle masterclass di Dennis Chambers vedi che il guru è sempre pronto a farti un culo spettacolare guru io te voglio bene sei un grande sei un grande sei un grande ma guarda io personalmente alla masterclass di Dennis Chambers non ci sono mai andato non mi è mai capitato sfortunatamente però magari uno ci va per apprezzare le pause proprio dopo appena esci appena esci fa una pausa perché senza nulla togliere a Dennis Chambers che è un fenomeno assoluto 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 altre domande altre domande non ne vedo per ora che fai stasera io ho visto una cosa diretta che fai stasera Rodolfo è una ragazza una ragazza io rimorchio un sacco questo modestamente sono un gran bellissimo telegram telegram c'ho molti telegram c'ho molti che allora Frank invece usi percussione senti visto che siamo in diretta posso dire una cosa a cui possono partecipare tutti ah come no 8 8 bars for you raga è una figata mi stavo a scordare meno male che me l'hai ricordato no no mi stavo a scordare però mo che c'è un momento di pausa si 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 a proposito di pause a proposito di pause perché allora io durante la quarantena ho pensato ho pensato ho pensato come si può fare siccome a me piace moltissimo condividere quindi noi stiamo qua condividendo le cose che sappiamo le poche cose che sappiamo le poche esperienze condividere e la didattica nella didattica la condivisione è la base di tutto se ognuno di noi condividesse una piccola cosa con gli altri saremmo tutti più ricchi si 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 è quello che io ho pensato di fare visto che a me piace smanettare col computer fare cose eccetera eccetera ho pensato di di fare un canale youtube di condivisione didattica in cui chiunque mi può scrivere alla mia mail che è tommaso sanzonetti gmail.com gmail.com mi può scrivere ve lo scrivo adesso qui sulla chat tu parla si si tra l'altro il canale youtube è appena nato tipo l'altro ieri quindi scrivetemi se vi va 8 bars for you 8 battute per te funziona così il video è è proprio 3 minuti dura quindi ci sono soltanto 8 misure che si propongono lo si possono suonare anche diverse velocità eventualmente dove si fa un piccolo video introduttivo in cui spieghi l'esercizio la parte suonata in cui lo suoni e la parte finale in cui magari dici come applicarlo sulla batteria o se è sul tamburo oppure uno stile musicale una cosa una pillolina la cosa carina la cosa bella è che può partecipare chiunque come fosse visto che youtube è pieno di video una marea di roba anche un po' dispersiva la mia idea era di creare un canale di riferimento dove può essere qualunque per esempio il tuo per esempio altre persone semplicemente che ne so la cosa carina è che chiunque può partecipare mi mandate un video io lo monto tra l'altro è montato anche molto bene graficamente con la parte che scorre insomma simultanamente mentre suonate insomma andate a vedervi il video anche di Luca Trolli che è un grande batterista l'ho visto l'ho visto ma sta a Roma lui no? si anche lui è vicino a noi io lo volevo lui abita qui mi metti in contatto perché lo volevo invitare devi invitarlo lo volevo invitare lui non mi conosce e non ci conosciamo di persona però se mi ci metti in contatto io lo volevo invitare perché io musicalmente lo conosco lui è un fenomeno Luca ha condiviso otto misure di una cosa semplicissima apparentemente che poi valla a fare come la fa lui l'idea è questa se vi piace iscrivetevi mandatevi i video io ne ho già ricevuti 25 ammazza io non te l'ho mandato ma perché mi ero perso ma tu c'hai un sacco di cazzi a full hd io ti posso io ti posso io ti posso io ti posso mandare otto battute in full hd tu mi fai la pausa una pausa in otto battute te pausa così però in full hd immobile bellissimo per fatte vedere che in full hd in certunque faccio un movimento velocissimo ti faccio così e non sgrana e non sgrana e a quel punto dici avete visto queste sono otto battute in full hd vi spiego come applicarle sul set bellissimo una pausa coronata anche questo potrebbe essere uno spunto didattico senti ma non ti trovo però come si fa devi scrivere 8 bars for you Tommaso Sanzonetti no no è proprio un altro canale scusa 8 8 bars bar 4 devi scrivere 4 perché è for ah 8 bars 4 4 you ok non sono stato chiaro 8 a numero bars 4 a numero ecco te qua adesso prendo il link e ve lo metto nella chat grande c'è anche un'introduzione in cui spiego io cosa e come funziona eccolo qua ve lo ho postato come spiacenti eh spiacenti i tuoi indirizzi web riprova eh certo ah aspetta non importa no aspetta poi lo mandiamo sulla pagina io conosco i miei polli io conosco i miei polli quindi allora quindi praticamente io che cosa faccio scrivo otto battute l'esercizio ti mando anche il pdf sì ma anche scritto a mano perché io poi lo faccio su silbelius lo metto ah da paura da paura da paura e poi lo faccio scorrere mentre suoni andate a vedervi il video di Luca sarà esattamente come sarà il video di Luca tutti quanti così allora aspettate adesso ve lo metto ecco vedi come amministratore me lo fa mettere ah 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 quindi adesso lo potete vedere no ci tenevo a dirlo perché è una cosa appena nata c'evo tre giorni fa sì 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 come io mi sei iscritto iscriviti mi iscrivi e poi visto che siamo tanti nella comunità di anch'io sono parte della comunità Drumstronzi Drumstronzi ma è così devo aprire il canale YouTube parallelo mandatemi video che io li monto li faccio io sto cercando di fare tipo sei video al mese ok quindi è abbastanza veloce come cosa perché l'idea è condivisione condivisione gli esercizi è figa sta cosa qualunque cosa esercizio un groove di una canzone un groove della vostra band che ne so io qua faccio un linear phrasing senti com'è oppure uno stile musicale un drum solo otto battute però solo otto battute perché l'idea è che io ho poco tempo mi studio otto battute l'idea è questa poi io durante i giorni me la faccio diversamente me la faccio mia faccio diverse cose insomma poi c'è il pdf che si può scaricare insomma yes è una cosa secondo me carina poi oh magari durerà una settimana io no 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 è bellissima l'idea l'ho messa è un'idea fighissima e va fatta va fatta va fatta assolutamente allora stavo leggo un attimo al volo gli ultimi gli ultimi commenti aspetta che vedo anche qui una una cosa quanto è figo sto posto io mi sto sembra un negozio di di giocattoli di giocattoli ok allora vediamo un attimo qua non vedo altre domande allora ragazzi vi ho mandato tutto quanto ripeto trovate Tommaso per fargli domande per condividere eccetera sul drum start club e basta che taggate chiocciola Tommaso Sanzonetti lui fa parte del club lo troverete tra poco anche sulla pagina telegram sul gruppo sul canale telegram t.me slash drum start official io vi ricordo come al solito se non l'avete fatto iscrivetevi a sto canale bisogna dice che bisogna dirlo alla fine quindi devi dirlo iscrivetevi al canale devi dirlo no più che altro scrivetemi domande cose eccetera e rimanete sintonizzati perché il canale drum start con Tommaso che è veramente un amico di vecchia data si può dire vecchissima e ho deciso di aprire questa nuova era del canale drum start e prendo un minuto per raccontare io ho fatto 580 video sul canale mio da tre anni a questa parte e qui consiglio Stokhausen 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 e dopo 580 video non ce la faccio più non ce la faccio più a fare i montaggi cioè nel senso poi neanche sono bravo cioè facevo dei video di risposta il canale era nato come video di risposta agli allievi per fare come promemoria poi in verità adesso si sono scritte quasi 5.000 persone quindi volevo cambiare la cosa allora sarà tutto in diretta cioè non faccio più niente preparato prendo se devo spiegare mesi dalla batteria vado in diretta basta e anche gli ospiti tutto in diretta quindi verrà dalla settimana prossima annuncio che viene Ezio Zaccagnini e la in diretta cioè non abbiamo preparato niente l'idea è parlare del pop tutti dicono va bene ma la Fusion lui è un grandissimo batterista e lui è venuto qua l'altro giorno cioè pazzesco grandissimo e allora abbiamo detto ok facciamo una diretta io farò una chiacchierata con te con la differenza che poi tornerai per suonare tornerò per suonare e che praticamente lo scenario sarà un metro indietro nel senso che stiamo qua dietro ci sarà il batterista ospite di volta in volta alla batteria io mi siedo lì nell'angolino ci sono 5 telecamere 5 telecamere una regia ho fatto le cose in grande c'è la persona che cambia le inquadrature mentre suoni cioè in full hd in full hd posso dire una cosa che drameo ti fa una pippa drameo ormai hai capito come questo è il drameo de grotta ferrata de grotta rossa drameo undicesimo de drameo undicesimo de drapio de aurelia però diciamo ogni martedì sarà il martedì ci sarà la diretta con l'ospite fino ad agosto cioè fino all'ultima settimana di luglio poi ad agosto dopo mani sì ormai sì 4 lo facciamo verranno nell'ordine Ezio Zaccagnini il primo martedì Dario Esposito il 14 e se non sbaglio il 28 che è sempre martedì Gabriele Morcavallo il 21 il 21 714 21 allora il 21 è il 21 è il 21 Gabriele allora e ora non mi ricordate vabbè vabbè non ho fatto ho messo in difficoltà non ero preparato non ero preparato qui c'è la regia che metteva la sigla 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 a proposito dei tempi televisivi no e niente quindi in verità il canale ha preso tutta un'altra forma e io inauguro questa nuova forma con il mio amico di infanzia e che infanzia e che infanzia Tommaso Sanzonetto noi abbiamo fatto la noi abbiamo fatto a Fosso del Fontaniletto sì ma cos'era l'asilo e l'elementari no elementari pure elementari elementari pensa tu due fringuelli porca miseria e quindi ragazzi allora sul canale iscrivetevi iscrivete i commenti ci vediamo Rod ci mandi il link del canale youtube di Tommaso eh sì ve l'ho mandato è questo qua Giovanni è quello che trovi lì sopra dove c'è Drumstart lo trovi qua su e allora ragazzi grazie a tutti per essere stati con noi zio io sono veramente felice sei un grande sei un grande tu sei un grande perché è stato veramente divertente sta chiacchierata e ragazzi ci vediamo settimana prossima per nuovi video in diretta perché appunto usciranno anche video proprio in diretta ma pure didattici insomma del vlog questa puntata la trovate pure sul podcast Drumstart audio figata io adoro i tuoi podcast ce ne stanno due cioè Imparare la Drumstart Imparare la batteria e Storie di batteristi io tutto ho sentito questo podcast con Tommaso lo trovate pure su Imparare la batteria su Spotify iTunes insomma sui tutti quanti i podcast ok zio ti ringrazio oh se vi è piaciuto il video condividetelo eh no condividetelo sì sì e fateci domande fateci domande fate quello che vi pare spammatelo ok immaginateci di qualcosa ciao ragazzi buonasera da tutti ciao ah mi raccomando sempre drum stronzi mi raccomando ciao 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 AUTODOC raccomanda che attravi 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 attravi. www.sdimedia.com www.sdimedia.com www.sdimedia.com